Stanno per iniziare a Brest i negoziati tra Kiev e Mosca. La Russia annuncia sospensione all'operazione belliche per consentire l'evacuazione dei civili dalle città. Un milione gli sfollati, ma è solo l'inizio. In mattinata il Brent sfiora i 120 dollari al barile, il costo del greggio aumentato del 50% in due mesi. Record storico del gas, 200 euro per megawattora. Il vice ministro al MIMS Alessandro Morelli nel talk di stasera di Alice Channel lancia l'allarme PNRR. L'aumento delle materie prime ci imporrà di rivedere alcuni progetti del piano. Audizione di Alice in corso alla Commissione Trasporti alla Camera. Il vice presidente di Caterina illustra le proposte dell'associazione per fronteggiare il caro carburante. Disoccupazione italiana in calo all'8,8% a gennaio e netto calo il dato sui giovani. Il terziario torna in fase espansiva. I prezzi della produzione industriale saliti del 30% in un anno. Grazie a tutti.